Sponsored by Costa Marina, case, vacanze, b&b e ristorante a Peschici Gargano Info 348 83 29 295 Costamarina Peschici.it Impresa Valassi Fermo e Franco L'arte di costruire e ristrutturare www.valassiff.it Trattoria Cantù dal 1897 all'Iporna 7 di Urginate Trattoriacantù.com Studio Dentistico Caponero Dottor Livio Sulla bocca di tutti caponerolivio.it Treva Home La tua casa vacanza sul lago di Como 340 22 45 235 trevahome.it Stadio Rigamonticeppi è l'andata del secondo turno dei playoff nazionali L'ecco Pordenone, Rigamonticeppi gremito come nelle grandi occasioni, come era successo anche con l'Ancona 3700 spettatori L'arbitro è il signor Fiero di Pistoia Una partita sicuramente per gli uomini di Foschi importante perché c'è da ribaltare il vantaggio che in caso di parità premierebbe proprio il Pordenone di Mimmo Di Carlo calcio di d'angolo la battuta poi tentativo e subito la grande risposta su Bruscagin da parte di Melgrati Bruscagin rimasto in area dagli sviluppi del corner poi il cross in mezzo un rilancio sbilenco c'è il tentativo di conclusione e poi la deviazione di Battistini che per poco non beffa Melgrati bravissimo ancora una volta a tuffarsi altra occasione per il Pordenone che comincia meglio Dubiczkas ci va sugli sviluppi proprio della stessa azione per poco non inquadra la porta Giudici si accentra morbido con Mancino Buso di testa e Festa risponde presente dall'altra parte del campo sotto il diluvio piove incessantemente alla riga Monticeppi con una perturbazione che diventa sempre più intensa si gioca lì a sinistra dove spesso e volentieri ha la meglio attenzione a Zammarini che sfiora il gol posizione favorevole per lui tifosi che continuano nell'eco a incitare la squadra poi ha altro tiro di Dubiczkas questa volta però non prende il giro la palla si impenna ma Pordenone che ci prova Foschi chiede a gran voce al quarto ufficiale di gara la sospensione della partita la palla non rimbalza più come vedete dalle pozze si fa veramente una grande fatica il Pordenone in avanti ancora col tentativo di cross e poi un altro tentativo di conclusione vedete che però diventa veramente difficile poi la palla che si impenna è una lotta simile più simile alla palla a nodo che calcio qui Battistini e Girelli hanno qualcosa da dirsi al quarantesimo l'arbitro interrompe il gioco aspetta un minuto e mezzo però poi decide di far finire il primo tempo la ripresa spiove va meglio la punizione di Burrai e ancora una volta Melgrati è bravissimo salva il risultato per i suoi 62esimo Zeliac dalla rimessa laterale colpo di testa allontanare poi un altro colpo di testa Bianconi un alleggerimento che per poco però guardate non so prende festa che è costretto a metterci i guantoni 65 gli spalti la curva nord dell'eco e poi centinaio di tifosi del Pordenone in sud attenzione al tentativo qui strepitosa la parata su Burrai di Melgrati in due tempi prima i guantoni poi col piede dall'angolo il tentativo di Zammarini non va lontanissimo dall'incrocio dei pali poi l'eco al 77esimo ci prova sulla destra le finte poi il cross direttamente sul portiere Magniera in agguato poi qui Zambataro entrato dalla panchina commette sicuramente un'ingenuità una leggerezza con l'intervento un po' alla cieca perché di spalle Sudeli è entrato anche lui dalla panchina rivediamo nell'area non può vedere il giocatore anche se forse potrebbe sentirlo alle sue spalle alza la gamba in maniera pericolosa comunque Zambataro e c'è calcio di rigore Burrai dal dischetto all'85esimo Melgrati quasi ci arriva l'aveva intuita ma la palla gli passa sotto poi Burrai viene ammonito perché si va ad arrampicarsi sulla rete sotto i suoi tifosi qui Di Nunno il patron dell'Ecco si arrabbia tantissimo entrerà in campo a protestare è partita che rimane ferma da questo rigore che rivediamo all'86esimo fino al 90esimo 4 minuti abbondanti tanto non si gioca per 4 minuti e poi arriva però la decisione incomprensibile della quaterna arbitrale che concede solo 5 minuti di gioco nonostante non si sia giocato per 4 minuti soltanto in quell'occasione lo ripetiamo l'invasione di campo di Di Nunno che viene espulso il patron dell'Ecco ma al 95esimo fiscale il direttore di gara fa terminare questa partita il Pordenone vince il primo round 1-0 ora è netto vantaggio per il passaggio del turno